I primi contatti li ho avuti di politici, così posso dire, con mio padre che fin da ragazzo mi aveva, diciamo, instradato verso un'idea dell'antifascismo, combattere l'antifascismo. Lui che era stato per qualche tempo anche vittima, era stato aggredito alla stazione di Alessandria da un gruppo di fascisti che sapeva che era un loro avversario politico. Di lì, io poi, il destino mi ha portato a lavorare alla Scarpa Magnano, che era a quel tempo una fucina di antifascisti. Per me è stato un approccio facilissimo perché mi sono trovato come a casa mia, ecco. Tra l'altro gli operai più anziani con cui avevo contatto hanno capito subito qual era il mio indirizzo e loro mi hanno favorito nella scelta, poi nel momento dell'inizio della Resistenza, nella scelta di entrare a far parte della Resistenza a livello di squadre di azione partigiana perché avendo un'età ancora estremamente giovanile e non dovendo rispondere alla chiamata alle armi io servivo più in città che non in montagna, ecco, per dire, anche se il mio desiderio sarebbe stato quello di partecipare alle azioni armate dalla montagna, però per me era già un grosso vantaggio, una grossa soddisfazione poter combattere il fascismo anche con azioni più modeste in città.